Nascondi ciò che sono e aiutami a trovare una maschera più adatta alle mie intenzioni. La dodicesima notte di William Shakespeare. Questa citazione trova spazio al prestigioso teatro Quirino di Roma, dove Italia Book Club incontra Fabio Varrone, autore del libro La gripta del mago. Un libro anarchico perché è un romanzo, raccoglie delle poesie, delle tue sensazioni, dei sogni, con uno stile anarchico. Chi è il mago? Il mago rappresenta la parte oscura delle persone, la coscienza, la riflessione del protagonista in questo caso. Che tende ad avere una visione molto tetra della vita, però il mago tende a fargli vedere gli eventi peggio di come sono in realtà. E quindi diciamo che tende a voler spingere l'anarchico verso l'oblio. La parte più oscura che abbiamo tutti, praticamente. I sociologi descrivono come agenzie tre spazi importanti, che sono la famiglia, gli amici e l'amore. La famiglia la introduci in una frase che mi ha colpito particolarmente, una volta entrato in quell'incubo chiamato casa. Questa frase in particolare si riferisce al fatto che la famiglia non rappresenta qualcosa di brutto, ma la casa in se stessa rappresenta qualcosa di brutto. Questo perché spesso quando noi torniamo in casa, pensiamo, siamo soli, le mura sono sempre le stesse e spesso c'è anche silenzio. In quel silenzio le persone tendono a riflettere su tutto quello che gli capita e spesso su quello che hanno vissuto in passato. Quindi la casa si trasforma in una sorta di prigione, come se qualcuno stesse in galera e nelle quattro mura che lo circondano è costretto a ripensare a tutti i suoi errori. La famiglia è una cosa importante, rappresenta la spalla su cui poggiarsi in momenti di tristezza, di solitudine, ma rappresenta anche a volte un ostacolo, magari nelle scelte, nelle decisioni, uno ne parla in casa e spesso si sente dare addosso. Quindi è come se fosse la casa in se stessa una prigione con dei carcerieri, che poi ovviamente non è sempre così, perché ci sono dei momenti belli in famiglia, ma ci sono anche questi momenti di prigionia. Se la famiglia in qualche modo ci viene assegnata, perché non decidiamo certo noi, cambia invece con il gruppo dei pari, le relazioni con i nostri amici. C'è un capitolo che tu chiami le amicizie che non durano mai, c'è questa visione pessimista. La visione pessimista deriva da quello che ho passato, ma quello che hanno passato poi alla fine tutti. Anche ultimamente sento molte persone che dicono, quell'amico mi ha tradito, quell'amico mi ha fatto un dispetto, quell'amico ha parlato male di me quando io non c'ero. Un tempo l'amicizia era qualcosa di importante, qualcosa che andava preservato. Adesso è diventato un valore fine a se stesso e purtroppo la TV di oggi, diciamo la società di oggi, tende a mostrare l'amicizia come un valore che è una cosa che poi comunque passa, una cosa che si può cambiare con un niente. Quando in realtà un vero amico è quello che ti sta vicino senza chiedere niente, ti è vicino in qualsiasi momento. Oggi questa cosa non c'è più, c'è ma è, diciamo, una perla in un oceano, se vogliamo metterla così. Perché le persone adesso vogliono dall'amicizia molto, ma in cambio danno poco. Quindi succede che un amico ti dà tutto se stesso, poi l'altro amico prende, ma non dà. E quindi si crea questa sorta di scambio che non è più equo, con delle incomprensioni, tutto quello che poi dopo viene, che poi distrugge un'amicizia. Il problema è che oggigiorno le persone vedono l'amicizia semplicemente come una cosa che va in tasca, c'è una convenienza e non è così. Quindi per quello non durano più le amicizie. Se invece stessimo in tempi diversi, come magari ecco nel Medioevo, ad esempio, l'amicizia era un valore che comprendeva anche il rispetto di una persona. Oggi tutto questo non c'è. Ti sembra un po' anacronistica questa tua teoria sull'amicizia nel periodo, nell'era di Facebook, dove molte persone hanno molti amici. Sì, molte persone hanno molti amici su Facebook, ma è un'ipocrisia se andiamo a guardare. Perché ci sono 100, 200 amici, ma tanti non si parlano, oppure mettono solo mi piace a quello che uno scrive. Serve solo a questo. Facebook è semplicemente una vetrina nella quale poi comunque... Una maschera. Sì, una maschera, che però nasconde l'ipocrisia di un'amicizia internetaria che non c'è. Perché spesso si sente gente che dice ho ritrovato quel compagno delle elementari. Però dopo tanti anni non hanno più niente da dirsi. Oppure dice, ah, se io non ti ho cercato dopo 20 anni, perché mi cerchi adesso? È come voler apparire. Poi è come una gara. Chi ha più amici è più importante. Come è un po' diventato Twitter adesso? Non c'è dubbio che i social network in alcuni casi favoriscono i rapporti, in altri invece no. E, beh, insomma, non c'è dubbio che i social network abbiano favorito dei rapporti anche amorevoli. Quindi tu invece descrivi l'amore in alcune poesie ed è, sembra quasi, un amore medioevale. Perché è l'amore non dichiarato e addirittura è l'amore che non ha un suo riconoscimento. Parli in una poesia, che sembra quasi in chiave leopardiana, di un amore che in qualche modo non viene ricambiato. E concludi dicendo ti sarò vicino per sempre. Io ho una visione dell'amore molto romantica, a che risale comunque a tempi andati che non ci sono più. Purtroppo è un po' un'illusione, se vogliamo, questa. Perché la realtà è un'altra. Noi abbiamo letto, visto film che facevano vedere l'amore in un determinato contesto. Facevano vedere storie d'amore che finiscono bene, cose plateali. In realtà l'amore reale, quello che viviamo tutti i giorni, è lo stare vicino realmente a una persona. Anche supportarla. L'amore può anche finire con gli anni, andando avanti. Rimane comunque il rispetto, che è comunque una forma d'amore. Tante coppie di una certa età non hanno più la scintilla che avevano un tempo. Però stanno vicine e vogliono bene perché comunque si rispettano. E hanno passato tante cose insieme, hanno costruito una famiglia, hanno creato qualcosa di bello insieme. Magari non c'è più l'amore plateale di prima, ma rimane questo volersi bene, che comunque è una forma d'amore, se vogliamo. Mentre una volta, un tempo, l'amore era qualcosa di sacro, qualcosa che durava per sempre. Fino a quando uno aveva fiato in corpo, l'amore c'era. E non si poteva tradire in nessun modo. Perché era comunque una cosa fondamentale. Un tempo la gente credeva nei valori come l'amore. Adesso non più. Mi spiace dire questo, però oggi è così. Fabio, la prima delle curiosità che vorrei togliermi è questa. Nei tuoi libri ci sono delle strane cose. Alcune sembrano degli errori di ortografia. Ad esempio la lettera E messa dopo una virgola. Mi domando, ma questa è una cosa voluta? Sì, è una cosa voluta in quanto ci sono dei codici nascosti. Io ho sempre messo delle cose particolari nei miei libri. Sono delle cose che spero che qualcuno un domani riesca a scoprire. Sembra una cosa di fantascienza, sembra una cosa come una ghost track di un cd, ma in realtà sono cose molto importanti che ho voluto nascondere in questi messaggi nascosti. Quindi la E messa dopo una virgola in realtà è un codice da interpretare. C'è stata una persona che mi ha detto, tu scrivi in codice binario. Una persona ha capito vagamente quello che io ho voluto fare, però non hanno ancora decifrato quello che io ho scritto. Sono stato anche molto criticato per questo, perché molti hanno creduto che fosse un errore di battitura. In realtà non era così. Ma anche se nessuno è riuscito veramente a decifrarli, qualcuno è riuscito a cogliere i significati di questi codici che ci sono nelle tue opere? Purtroppo no, non proprio, perlomeno. Qualcuno ha capito il senso di quello che volevo esprimere. Sono rimasto molto deluso da un amico che era un ingegnere, quindi anche molto abile, conosceva bene il codice binario e tutto quanto, ma al momento che io gli ho presentato il mio libro, che era un romanzo cyberpunk, lui non ha guardato queste stranezze come se fossero qualcosa che andava interpretato. Lui le ha guardate come un errore di ortografia e la sua frase fu il tuo libro costa più di quello che vale. E io gli dissi Ma hai guardato oltre? Hai guardato? Hai capito? No, cosa dovevo capire? Mi ha detto lui. Io gli ho detto Leggi tra le righe. Leggi bene. Non ti pare strano che ci sia una E dopo una virgola? E lui rimase così, ma non credo che sia riuscito ancora a capire bene il senso. Però spero che domani qualcuno ci riesca. A proposito di cyberpunk, che cos'è il cut-up che tu citi continuamente proprio in questo romanzo? Il cut-up è un metodo inventato proprio dal cyberpunk, dal movimento cyberpunk, che rappresenta la possibilità di trarre informazioni nascoste attraverso il taglio casuale cut-up, il taglio casuale delle parole. Cioè se io prendo una frase, se io prendo delle parole a caso, riesco a far uscire una frase di senso compiuto e che nasconde comunque o un significato nascosto, o una verità, o comunque un'altra frase che poi è legata al contesto. È un metodo usato pochissimo nella scrittura. Però diciamo che gli hacker, coloro che si intendono di informatica, questa cosa la conoscono molto bene e sanno che in un libro se si prendono determinate parole, determinate frasi, possono costruire un altro libro con dei significati ben precisi. Bene, grazie Fabio. Questa era l'ultima domanda. Io ti ringrazio, ringrazio l'Italian Book Club, ringrazio il Teatro Quirino, il bistro del Teatro Quirino e alla prossima intervista.